Musica Boia, allo cazzo, faccio do cazzo, cinque anni dopo Non è che dice cinque mesi dopo Cinque anni dopo, vediamo se si è tagliato la barba Walter White Minchia Sembra che forte è la storia di questo gioco Devo dire la verità, comincia subito Cioè no, questo è stato un carcere E' uguale a prima Minchia che topa Che è, Lena Headley? No, è la Calisi Ciao Zoe Cioè questo è stato un carcere uguale a prima dopo cinque anni Barba uguale a prima, vabbè Eh, questa è la gente dell'FBI che è intervenuto No, non è lui Eh Sì, uno ha ucciso il tuo fratello Quell'altro tipo ti ha accusato dell'omicidio Ah, dice sì, qui c'è l'accordo Io voglio che mi trovi qui, sto l'agente dell'FBI che Ok, devi trovare questi due Uno è il leader che era prima dell'FBI E quell'altro è di una banda dei motociclisti Ecco Devo lavorare per l'FBI Anche qui un basta su Artist Life Su Arma 3 Life Vabbè Se dopo cinque anni di carcere Oh, stai scemo, un fallo scemo Stai calmo Mi proponete di lavorare Come tipo scagnozzo per l'FBI Ci sto prima di marci qui dentro Insomma, che è che non lo farebbe, no? Poi vabbè, per l'FBI E lei che mi ha detto Va a lavorare per il panificio vissuto Oh, vai, scarcerati Non penso che si possa andare a giro Con i nostri personaggi Saremo sempre, esatto Saremo sempre in macchina Vabbè, questa non è la nostra Questa è il taxi È tutto un carriamento sto gioco Ah, abbiamo un budget Allora, c'ho C'ho 56.000 dollari Showroom E collection Allora, vediamo la showroom C'è una bellissima Chevrolet Camar Mamma mia la Camaro Porca troia Cioè, la devo prendere subito Senza manco andare da quell'altro Ok, 22.500 dollari Poi c'è una Nissan Del 2013 Bella, però a me Auto Madonna Eh, vabbè, sì A me l'ho fatta apposta E il GT Della Mustang Del 2011 Potrei all'altro E poi c'è Sì, vabbè Vaffanculo Vabbè, non gioco più ragazzi Il video finisce qui Cioè, a parte A parte la Nissan Le dovrei comprare tutte e tre C'è la Camaro È una delle mie macchine preferite La Mustang Allora, se è uno stronzo Me lo fai apposta E poi il Dodge Challenger Che, come sapete È la mia macchina preferita E il Dodge Challenger Per forza Allora, ci dà ovviamente La velocità Il power Torque Lunghezza Wide Weight Weight Peso Vabbè, top speed Di velocità Fai vedere quanto fa Top speed Questa non ce la dice nemmeno Questa fa 155 Vabbè, sì Non è in chilometri orari 150 182 Dodge Challenger Boh, mi prendo questa via Che pesa uno sbotto Sì, sì Voglio il Challenger Allora Crew credits Ah, ci sono anche i crediti Come vedete Della banda Quindi la banda E i soldi che faranno Saranno nel comune per tutti Penso No, la pago In dollari Miei Pago di tasca mia Vabbè Tasca dell'FBI Mamma mia Mamma mia Ce la farò mai ragazzi Con la partnership A comprarmene una Facciamo un Indiegogo 10 euro a testa Compriamola Compriamo Di questo Dodge Challenger A Coridan Ma di grabber Stai zitto Vieni Fatemi fare un test drive Mamma mia Ma che bella ragazzi Poi La vorrei nera Ma anche blu Fa la sua porca figura Ok Si va bene Ogni dealer Ogni venditore Ha dei tipi differenti Di auto Rispetto a quello Dove sono andato ora E poi le modifiche Si dice Mano a mano Che la missione va avanti Ti sbloccherò Tutto questo Tuning Che potrai Modificarti La macchina Ah si ti fa vedere Un po' di macchinine Per cosa sono Ad esempio Questa qui sotto Cos'è la mini Si dice per È l'ideale Per viaggiare Per le autostrade Insomma Questa qui è modificata Leggermente Questa è giusta Per andare su strada Vabbè Comunque Cazzo se ne frega Allora Cosa devo fare ora Non ho capito Questo cos'è Oh Me lo dai L'obiettivo Questo so io Coridan Ah guardate No cioè Se faccio lo zoom Mi fa anche vedere Che figata Ah Guardate là Story mission No Ah Non le posso vedere Ah Col più Più Story mission Skill Landmarks Allora Andiamo qui Dove ci fa vedere Questo fuoco azzurro Cos'è Car tunnel street Per modificare la macchina E qua giù Driving test Si voglio andare qui Set way point Vai Ok Andiamo lì Dai Do Hold there To get back on track Che cazzo Non ho capito A che serve Hold there Ah boom Mi rimette Allora Vediamo com'è da dentro Ragazzi L'interno Per lavorare per l'fbi Ovviamente Ha portato I suoi vantaggi Guardate È bello ogni tanto Vedete che muove la mano Per scalare la marcia Bellissima Bellissima Dog challenger Fuck the way Per tutta la vita Forever Non pensate nemmeno minimamente Ho tagliato la strada Alla polizia Non pensate minimamente Che io mi pendico in rosso Un altro giocatore E vabbè ma Cioè ma mi taglia la strada Ho ammazzato qualcuno o no? Si è capito che in questo gioco Non si può ammazzare la gente Giustamente Non è Carmageddon Nei GTA La gente Schiva Si getta di lato Che cazzo c'è qui? Un blocco della polizia Ha la sua macchina Non vi aspettate Oh wow 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 Alex Non ti plani a raccogliarmi In quella full stock ride Sì Allora Mi si trova Qui co-op Perché non me lo fa? Solo Ah È la spec delle auto Spec required street Ah affanculo Ecco perché ci vede orcoso Non lo posso fare Perché serve una macchina Da strada È la mia perché cazzo è Fai vedere Eventi pvp No vabbè mettiamo Ah no non ci posso andare via No niente Devo andare Fai giù che c'è Car dealer Andiamo qua Eh no non lo posso fare C'è il lucchettino Vuol dire che devo avere Per forza Una macchina No 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 Vabbè non ha fatto A fast travel Ci vuole andare Normalmente Vabbè è uguale Enter Vediamo un po' Come si può modificare L'auto L'ho già regata Se l'ho regata Mi cazzo eh No no Vabbè è bella dura Challenger Stiamo dentro Vai Ah perché forse È una story mission Ecco perché Prima devo modificarla Appunto Per poi andare a fare Tutte le altre cose C'è la missione principale Da seguire Street, dirt, perf, ride, circuit O faccio per strada O per dirt Tipo off-road Cose del genere Infatti Adesso spettacolo Anche le auto off-road No In mezzo alla neve Vabbè questa È più da pista Da circuito Ok Select street kit Vediamo un po' Andiamo a ricapirci qualcosa Allora livello 1 Livello 10 Livello 20 Quanti livelli sono? 40 40 dice per ora Livello 1 Sì Voglio scegliere Lo starter kit Che fa? Oh Che no Che figata Che la smonta E la rimonta Allora Street car Purchased Purchased Comprata Allora Questa è da strada Se faccio tune Me la fa modificare? Allora visual Vediamo un po' Se ce la fa modificare Anche in aspetto Oh finalmente il colore Va a van good È anche nera Però è bastarda C'è anche rossa Minchia costa 9000 A colorarla La faccia del cazzo Stickers C'è tipo Una donnina nuda Vabbè Vabbè 45000 Sì Nostro signore Ma quanto me li fate pagare? Sticker niente Interni Oh mamma mia Oh Vediamo un po' Qualcuno che mattizza È questo È questo Questo mattizza Da morire Compriamo Il dietro Vediamo un po' L'ho già vista È quello che mi interessa Però Per sicurezza Le guardiamo tutti Sì sì Questo qua così No 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 Dove è? Eccolo qua Questa mi casa È da morire E poi a parte Quello le performance Vediamo un po' Che c'è Ah no Ancora queste cose Non le posso comprare Air system Gearbox Il camo C'è Model core Le ruote I freni Sospensioni Differenziale Come cazzo si chiama No vabbè Ancora niente Vabbè Me la tengo così Come me la so fatta Beh Per ora teniamocela così Dai facciamoci un giretto Con la macchina così Ok Direi che Sono a posto eh Sono a posto Ho preso la macchina per strada Mamma mia Già Già era bella blu Guardate la ragazzi Cioè vabbè Ci ho tolto la scritta challenger davanti Che non c'è più Mamma mia Altra roba Dove mi porti? Allora Meet Zoo Però come vedete ragazzi Ora Regola d'arte Come mi dite sempre Coridan Lo dice duemila volte Per regola d'arte Che lo dico anche dal vivo Posso fare driving test Avete visto Ora me l'ha sbloccato Però La signorina mi ha detto Viene a trovarmi E dov'è che devo andarla a trovare? Oh C'è anche La nitricerina Arnos Sta macchina Dov'è che la devo andare a trovare Lei? Oh A Detroit O si è spostata A Michigan Allora Vediamo un pochino Eh è questa Sì sì È questa È questa È questa la missione Driving test Ma aspettiamo Il waypoint Perché voglio Un attimino Provare Il turbo Vediamo un po' Come è questo turbo Lo voglio vedere da dentro Eh ma lo voglio godere Allora Prima prendiamo la curva Per non spiattellarci Provide Pronti Via Turbo Perfettano Quanto dura? Ah vabbè Più affermo Bello 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 Guarda là Madonna Vieni dai Vieni Non ho fatto nemmeno I duke Di hazard Allora Quick hop Ah c'è anche la wiki E solo Han solo Vediamo un po' Cosa ci tocca Ah devo battere Zo Durante la gara Amica Questo sono uscito Di galera Mi ha dato 60.000 dollari Che mi poteva dare cazzo E scappacchia Della silopoli Con canada Mi ha fatto comprare Una macchina In più devo gareggiare Insieme a lei E devo Pedinare E denunciare Un agente dell'fbi A posto eh Cioè Ai delinquenti Li fate fare Vabbè Delinquenti Non sono delinquenti Però Ai presunti delinquenti Li fate fare Una cosa del genere Ma penso perché Quella gente lì Dell'fbi È corrotto Quindi loro Non si fidano Più di Du Zo Stiamo mangiando La polvere Te lo verremo A tante di Rallentatina Giusto per curvare Non sto leggendo Ragazzi Perché va bene Questi giochi Di guida Si va a tremire Per strada Se leggo Appunto Mi spiattello Merda Oh è Zo Zo Che cazzo Ho E vabbè Vabbè Ma diosì Per davvero Ma l'ho preso Di frontale Diosì No anche No anche Visto che Lavoro per l'fbi Posso schiacciare La gente Andiamo Rallentatina Guarda che curva Proprio A boss Della mala Taglio Taglio per i campi Eh Zo Te ne aveva male Ma io sono dell'fbi Sottorizzato da te Posso Fare cosa mi pare E vabbè Cioè Anche il tassi Leva Tirarle qua Merda Merda L'ho preso troppo In pieno L'ho preso Veramente troppo In pieno Dov'è Zo Anche su Watch Dogs Appunto Per ritirarlo In campo Sceglievo Sceglievo sempre Le muscle car E vabbè Non curvo Your crew Sì Il mio crew Vai vai Va sul finale Godiamocelo Da dentro Grande lui E Zo Sì Non arriva nemmeno Non c'era nemmeno un visuale Zo Boh L'ho sgraffiata Da morire Porca L'ho sgraffiata L'ho distrutta Ma è più bello E più vissuta Oh livello 2 Che mi ha sbloccato Allora Tutte le macchine Vengano potenziate Vabbè Incrementate In ogni 3 livelli Ho sbloccato Un nuovo pezzo Per la macchina All'HQ Quindi vabbè Il succo del gioco Ovviamente È fare punti esperienza E modificare la macchina Per farla diventare Un bolide Disumanamente potente Vediamo che parte Ho vinto Ah Ho preso un bonus All'accelerazione Sì Auto equip Montacela subito Ovviamente Che Non c'hanno tanto Accelerazione In queste macchine Mi farebbe comodo Ok Sì Vai Dove mi porto? Dove mi porta? Arnaite? Uzo Un fan Eh? Headquarters Il quartier generale Questo sarà il quartier generale Della mia crew Vediamolo un po' Eh Midwest Dove siamo ora? Bencchia Guarda lì Tutti distati eh Porca Traverso Dappertutto Boia C'è la pompa Pistola Cold Python Soldi ovviamente Nel bagagliaio Questo è lo struncio eh Venga questo è Il classico Galleotto Maledetto Da State Prison The V8 Maledetto Con i due pistoli Crociati sotto la morte Un Johnny Roger Particolare eh Mi devo fare tatuaggio anch'io Per entrare Ah È tipo È tipo coso È tipo dai È tipo Fast and Furious Che devo entrare nella gang Io tipo sono un aggancio Della polizia Mi devo Ma questa è una stronza Se sta qui con noi Vabbè La gente è speciale Sotto copertura Va bene sì Tutta la mia collezione Ok Questo serve per gestire Le proprie macchine Specializzazioni Ah sì Posso accedere Velocemente A tutti I tuner del mondo E ce ne stallo E ce ne stallo Cosmetics Va bene sì Ah sì Vabbè Tutti Nel workshop Penso qua dentro Quando portiamo la macchina Tutti i danni subiti Vengano aggiustati Allora dice Installa Parte della macchina E Dipinge Le metteci Delle sticker Personalizzati E per riparare Le macchine Rotte Workshop Abbiamo visto Collection Che è ancora bloccata Perks Vediamo un po' Salve Questi sono tutti Perks Che abbiamo sbloccato Quindi nemmeno uno Andranno sbloccati Vuoi aggiungere Un perk point In questo perk Ah se lo dice A sinistra Cos'è Un punto Un per cento E Ah incrementa di un per cento I freni Della tua macchina Qui è stata sotto Double down Alla Due per cento Di possibilità Ah sì Di prendere due perk point Invece che uno Ogni level up Questo sotto Tre per cento Di Di tutti Di tutte le parti Di strada Boh C'è una sega Ah vabbè Questo prendo più esperienza Dalle missioni E questo invece Prendo un bonus Nelle Cop Mission Nelle missioni normali E nelle missioni di fazioni Prendo Un punteggio Un più Questo Vabbè per ora Non me ne frega Un cacchio Di queste cose Fuori C'è una bella pota Zoe Per ora Zoe Progresso Ovviamente Vedete ho fatto Dayturn Corborn Zoe E poi questi altri Che si dovranno Sbloccare Che ancora Non abbiamo E poi Kit car Vediamo un po' No Ok Queste sono cose Che si sbloccheranno dopo Vabbè E ovviamente Il workshop Della macchina Questo Performance Riparare Vediamo un po' Riparare Quanto mi costa 52 E l'ho riparata Completamente Comunque ragazzi Finisce la seconda parte Di questo video Di The Crew Proviamolo Spero che il video Vi sia piaciuto Alzo non vi sto a dire Compratelo o no Anche perché ho visto Tipo al primo Secondo posto Su Steam Per i preorder Comunque Secondo me È un titolo interessante Poi va rivisto meglio Perché dalla beta Non è che Ci si possa fare un'idea Per quanto Le beta Della Ubisoft Sono comunque Giochi finiti al 99% Quindi fatevela Prendere bene Se vi piacciono Giochi di macchine Secondo me Comunque Un'occhiata E una possibilità Dategliela Da corrida Nel corridore Che lavora in copertura Per l'FBI Vabbè Mi vorrei coprire Sotto le coperte Insieme a Zoe Che è una bella fica Però a parte questo Ragazzi Tre link in descrizione Iscrivetevi alla pagina Facebook Alzate per rimanere Sempre aggiornati Sulle novità del canale Poi se volete fare Qualche chiacchiera con me Negozio di C2A.com Per comprare questo gioco C'è anche il periodo di questo E molti altri A pezzi inferiore Rispetto alle case di produzione O anche a Steam O al sito di UPE Della Ubisoft E non per ultimo Iscrivete al mio canale Twitch Perché da settembre Inizierò a stremmare regolarmente E nel caso Devisse comprare questo gioco Farò anche questo Oh Fatemelo prendere bene Ciao a tutti E giovedì torno Da porta al computer A riparare Ciao ragazzi